Abbiamo intanto salvato 5 o 6... Addio ai fondi che erano previsti inizialmente per interventi da realizzare nelle città dell'agro. Nonostante progetti di qualità già finanziabili, la Regione Campania ha distratto svariati milioni di euro per lavori che sarebbero stati utilissimi per il lancio dell'agro. De Luca continua a mortificare un territorio importante della provincia di Salerno e della Regione, ha affermato il consigliere regionale Alberico Gambino, che continua a bacchettare l'operato di un governatore che ai proclami e alle promesse non fa seguire i fatti, ha dichiarato l'ex sindaco di Pagani. Innanzitutto voglio formulare gli auguri di un buon anno a tutti quanti i telespettatori di Telenuova. Purtroppo finisce l'anno, è finito l'anno con questa brutta ennesima notizia. Più che ennesima notizia, un ennesimo scippo che è stato perpetrato dal governatore De Luca e dai suoi consiglieri regionali, i quali pensano di fare la spartizione dei pani e dei pesci, così come si svegliono la mattina e decidono di dare un milione di euro a qualche comune piuttosto che un altro, sottraendo, a mio avviso, illegittimamente dei soldi al territorio dell'agro nocino sarnese, poiché questi soldi erano stati già destinati dal Ministero, quindi attraverso il Cipe, all'agro nocino sarnese. Erano stati destinati 100 milioni di euro, sono stati candidati, si sono candidati progetti dell'agro per 75 milioni di euro, tutti i progetti finanziabili, quindi certificati dalla Commissione che erano finanziabili, però ne hanno finanziati soltanto 31-32 milioni di euro, il che fa capire che c'è improvvisazione, c'è superficialità, c'è un modus operandi che non corrisponde a quella che dovrebbe essere la normale attività gestionale e amministrativa, il mio rammarico, il mio rammarico è che purtroppo tutto avviene nel silenzio assordante dei primi cittadini che si vedono sottrarre queste somme e non dicono niente, tutto avviene anche con una volontà precisa da parte dei dirigenti della Regione che a mio avviso si sono comportati in modo irregolare, però nel 2019 io voglio rassenerare i miei conterrani che io porterò avanti con tutte le mie forze, con tutte le mie energie, con tutte le mie possibilità e disponibilità che loro stesso mi hanno dato, questa battaglia che è una battaglia di giustizia sociale per questo territorio, che ancora una volta si vede mortificato e calpestato nelle sue fondamenti principali.